Cari telespettatori bentornati a Primo Cittadino, la puntata di questa sera la dedichiamo al Comune di Pesaro e al suo Sindaco Matteo Ricci. Bentornato nei nostri studi Sindaco. Buonasera a tutti. Come sempre ricordiamo i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33, potete però anche inviarci dei messaggi pure con Whatsapp al 338 49 68 250. Partiamo subito dalla situazione Covid, da oggi le marche sono tornate in zona gialla ma come ha detto lei più volte non è un tanna libera a tutti perché bisogna tenere ancora alta l'attenzione Sindaco, è così? Sì, il virus sta continuando a circolare, i dati sono in costante miglioramento però è un lento miglioramento e poi soprattutto la campagna di vaccinazione ancora non è così estesa da farci stare tranquilli. Quindi avremo un mese molto delicato, forse meno, io penso che questi 15 giorni saranno determinanti perché se in questi 15 giorni saremo responsabili e quindi non terremo comportamenti rischiosi e al tempo stesso la campagna di vaccinazione comincerà a galoppare, allora io credo che tra 15 giorni potremo ulteriormente ridurre le restrizioni che ci sono. Coprifuoco compreso visto che... Sì, è evidente che queste sono delle norme prese in maniera prudenziale per evitare appunto che sia un tanna libera a tutti perché se ci dovesse essere una quarta ondata a maggio sarebbe un disastro, rischeremo davvero di giocarci l'estate, invece abbiamo bisogno di graduali, riaperture, quindi ci vuole grande prudenza, in modo tale da poter avere un'estate quasi normale, da poter rimettere in moto il turismo, tutte le attività che sono in qualche modo dall'indotto turistico perché sappiamo quanto ne abbiamo bisogno e abbiamo bisogno di rinascere. È evidente che abbiamo bisogno di correre sulla campagna di vaccinazione, questi giorni non si capisce perché a Pesaro per tre giorni hanno interrotto la campagna di vaccinazione, non si è capito perché se non hanno vaccini, se non si sono organizzati, se manca il personale. Oggi mi hanno detto perché mancano le prenotazioni, come mancano le prenotazioni? È impossibile che manchino le prenotazioni, quindi insomma stiamo cercando di capire che cosa è successo nel punto vaccinale di Pesaro, è vero che a Pesaro ne hanno vaccinati di più rispetto ad altri punti, però questo deve essere una macchina in moto 24 ore su 24 perché ripeto più persone riusciamo a vaccinare, prima sconfiggiamo il virus, prima riusciamo a riaprire anche tante attività che ancora hanno delle restrizioni. Dobbiamo parlare anche dei tamponi perché lei intanto oggi ha lanciato un appello al Premier Draghi, ha detto faccia come Macron proprio perché in Francia sono partiti questi test salivari a tappeto per gli studenti che appunto frequentano scuole di ogni ordine e grado, però è stato anche criticato sui falsi positivi, che cosa risponde a queste persone che pensano che in realtà non servano poi a così tanto quando se ne scoprono pochi? Ma sono state alcune critiche veramente molto strumentali, nel senso che ogni tampone veloce ha bisogno della verifica del molecolare, così in tutti gli screening, quando la Regione ha fatto secondo me in quel caso un'ottima operazione facendo uno screening prima di Natale di massa ai cittadini, ognuno che veniva trovato positivo faceva il molecolare e così è stato anche questa volta. L'unico problema che c'è stato è che nelle scuole medie noi i tamponi positivi o diciamo tendenzialmente positivi perché alcuni erano anche incerti, e l'AIL che gestisce egregiamente questo servizio li ha mandati all'Asur come sempre, soltanto che l'Asur presa dalla campagna di vaccinazione presumibilmente ha ritardato a dare i responsi in 4-5 giorni, tant'è che a quel punto siamo intervenuti, abbiamo deciso visto che ormai facciamo tutto noi, compriamo i tamponi, organizziamo i medici, in parte volontari, in parte a pagamento, gli infermieri eccetera, abbiamo fatto un accordo con un laboratorio privato e quindi il molecolare lo facciamo in 24 ore. Quindi non ci sono falsi positivi, c'è uno primo screening che avviene attraverso i tamponi veloci che viene confermato nell'arco di 24 ore con il molecolare, più sicuro di così non c'è nulla. Abbiamo fatto il terzo giro, siamo pronti a fare il quarto a maggio se il Governo e la Regione continuano a non muoversi, perché anche in questo giro 11 ragazzini sono stati trovati positivi, tutti asintomatici che inconsapevolmente avrebbero potuto infettare centinaia di ragazzi e di loro familiari. Quindi è uno strumento importantissimo e questa mattina mi hanno girato un consigliere comunale che ha origini francesi, familiari francesi, quindi segue molto anche la politica francese, mi ha girato le prime pagine dei giornali francesi, in Francia Macron fa tutte le settimane con la riapertura delle scuole, addirittura dagli asili, dalle materne, il tampone salivare una volta alla settimana a tutti i ragazzi che vanno a scuola. Io non capisco perché ancora in Italia e nella nostra regione non lo si faccia o come facciamo noi con i tamponi veloci con la conferma molecolare o con i tamponi salivari, se ci dicono che sono validi e efficaci e in qualche modo autorizzati, non solo autorizzati ma diciamo con dei risultati che danno una certa garanzia di successo. Del resto qual è l'alternativa? L'alternativa è lamentarsi che le scuole non sono sicure, lamentarsi alla prima persona che viene positiva e alla quarantena che scatta in quella classe, lamentarsi se la scuola richiuderà. Noi non abbiamo alternativa se non quella di controllare i ragazzi se vogliamo avere una scuola sicura, perché i giovani sono fuori dalla campagna di vaccinazione, fino ai 16 anni non verranno vaccinati, dai 17 ai 20 anni verranno vaccinati quando l'anno scolastico sarà abbondantemente finito, forse dovrà riniziare quello dell'anno successivo. Quindi lo stiamo dicendo in tutti i modi, il caso di Pesaro è diventato un esempio nazionale, siamo contenti che sia diventato un esempio nazionale, ma non siamo contenti che altre città non lo facciano, perché coloro che studiano nel resto delle marche e nel resto del paese hanno lo stesso diritto di essere controllati e di andare a scuola nella massima sicurezza possibile. La sicurezza totale non esiste, però lo screening riduce il rischio e più lo screening è frequente e più il rischio si abbassa. Quindi se continueranno a non fare nulla, noi continueremo a fare la nostra parte con risorse del Comune per la quarta volta alle scuole medie e alle scuole superiori nei primi giorni di maggio, entro la metà di maggio. Però anche domani sarò a Roma, penso di incontrare di nuovo il Ministro Bianchi che voleva fare questa cosa, poi ha trovato mille ostacoli organizzativi, però insomma ribadiremo la nostra proposta perché davvero mi sembra una proposta di buon senso che può essere utile a tutta la scuola e non soltanto alle scuole pesaresi. Qualche giorno fa è stato presentato anche il piano delle riaperture, sicuramente graduali, tra l'altro prima ho citato le risorse comunali, cercherete di aiutare anche le attività, in primis le palestre, ricordiamo anche che c'è tempo fino a mezzogiorno del 28 di aprile per presentare la domanda e quindi un aiuto importante anche per queste attività. Sì, noi ci siamo concentrati molto sul sociale perché è evidente che nelle competenze del Comune c'è appunto quella delle politiche sociali, mentre invece le politiche per l'impresa, il sostegno dell'impresa sono politiche regionali, nazionali e quindi ci siamo occupati molto, abbiamo fatto quattro giri dei buoni spesa, ogni volta 1500-1700 famiglie che hanno avuto buoni spesa di media di circa 220-230 euro a famiglia. Abbiamo fatto il bonus bambini per aiutare i bambini nel mese di novembre, gli acquisti per la crescita dei bambini, abbiamo distribuito le mascherine, abbiamo fatto tantissime iniziative. Poi a un certo punto abbiamo detto proviamo a fare qualcosa non che sostituisca lo Stato, le regioni che devono essere loro, dare le risorse alle imprese, ristori e via dicendo, ma proviamo ad individuare le categorie che più di altre hanno avuto un crollo del fatturato. La prima cosa che abbiamo fatto è stato un fondo dedicato in gran parte alle agenzie di viaggio, cioè quelle che avevano avuto uno stop totale, agenzie di viaggio, tour operetto. Le hanno risentito, certo. Poi l'abbiamo fatto invece per le categorie che avevano avuto un calo di fatturato maggiore del 30%, abbiamo dimezzato la Tari, la tassa sull'immondizia, che è una tassa abbastanza gravosa per chi ha soprattutto delle grandi superfici e questo è andato a vantaggio in particolar modo degli albergatori e dei ristoranti. Poi adesso abbiamo fatto un'azione specifica per le palestre, perché le palestre sono quelle che riapriranno più tardi, dal primo giugno addirittura al chiuso, alcuni stanno facendo un po' di lezioni all'aperto ma hanno perso gran parte dell'anno, si sono un po' salvate con l'online e quindi abbiamo deciso di dare un contributo a fondo perduto fino a 1.500 euro a palestra e un contributo invece per la sanificazione dei locali fino a 1.500 euro. Sanificazione significa ricambi dell'aria, filtri, materiale per l'igienizzazione del locale, termoscanner all'ingresso della palestra, in quel caso rendi conteranno le spese e il comune gliele pagherà. Sono piccoli aiuti sui quali abbiamo voluto concentrare però molta attenzione e così come sulle società sportive. Le società sportive gli abbiamo regalato un kit di tamponi veloci in modo tale da poter riaprire il primo possibile per le attività consentite e le attività sportive, che sono tantissime nella nostra città, nella massima sicurezza. Quindi abbiamo fatto una serie di iniziative per aiutare categorie specifiche e in particolar modo quelle che più hanno sofferto o più sono state chiuse. Ci stanno arrivando tanti messaggi e abbiamo anche una telefonata in linea. Le chiedo prima però se oggi è andato a pranzo fuori oppure sei goduto di un caffè all'aperto in una tazzina di vetro dopo tante settimane. Sono andato a prendere un caffè, fra l'altro con Giovanni Gossi, il segretario regionale del PD, in un bar all'aperto con la tazzina. Questo sì, il ristorante no, forse domani sarò a Roma, forse approfitterò domani, tempo permettendo. Qual è la situazione a Pesaro? C'è qualche malumore di chi non potrà riaprire? Sono tanti questi casi? C'è, sicuramente c'è. Intanto però credo che il malumore c'è stato nelle prime 24-48 ore perché alcuni hanno pensato che il coprifuoco delle 10 arrivasse fino all'estate. Dice Dio abbiamo perso l'estate. Lì c'è stato un grave errore comunicativo del governo. Tant'è che poi il ministro Gelmini, credo ieri o ieri l'altro, ha ribadito che tra 15 giorni c'era un check up della situazione. E quindi se i dati, come dicevo all'inizio, caleranno, i tamponi aumenteranno, ci saranno ulteriori aperturi. Io sono convinto che dal primo giugno noi avremo, saremo in zona bianca. Se ci comporteremo bene saremo in zona bianca. Se ci comporteremo male rischiamo una quarta ondata e non ci voglio neanche pensare. Poi sì, c'è malumore per quelle attività che non riescono ad andare all'aperto. Noi abbiamo, credo, autorizzato fino a, mi diceva l'assessore Frenquellucci, 140 spazi di suolo pubblico per le attività che oggi ancora non lo hanno, perché stiamo cercando di permettere il più possibile a bar, a ristoranti e gelaterie di lavorare. E quindi stiamo cercando di dare suolo pubblico anche in vie dove abitualmente non veniva concesso. Sono pochissimi i casi dove non abbiamo trovato una soluzione magari legata alla viabilità. Questo è molto importante perché consente a questa attività in qualche modo di riniziare a lavorare. E fra l'altro fino al 30 giugno la TOSAP, la tassa sull'occupazione di suolo pubblico, non si paga. E siamo fiduciosi, domani sono a Roma anche per questo, perché è in discussione un emendamento che come sindaci abbiamo proposto per allungare l'esenzione della TOSAP fino al 31 dicembre. Siamo fiduciosi che venga approvata tra gli emendamenti del DL sostegno che è in discussione al Senato. Se così sarà, tante attività potranno non solo avere il suolo pubblico, ma non pagarlo. E quindi questo sarà per loro una bella boccata d'ossigeno. Sicuramente è già così fino al 30 giugno, ma io sono fiducioso che riusciremo a portarlo alla fine dell'anno. Bene, sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Buonasera sindaco. Dunque, io le volevo fare una domanda, non diciamo al sindaco, ma all'esponente del PD, una domanda più squisitamente politica e non che riguarda la gestione della città. Allora, la domanda si ricollega un po' al tema della frammentazione regionale, che credo abbia evidenziato, specialmente nel corso di questa pandemia, molte sovrapposizioni con lo Stato centrale. Lei sindaco avrà sicuramente notato che sui mezzi di comunicazione si sta parlando diffusamente di macro regioni e per quanto riguarda la regione Marche, molti esponenti dell'attuale governo regionale tendono a spostare il baricentro degli interessi tutto verso sud, ipotizzando una macro regione del centro Italia, costituita da Marche, Abruzzo, Molise e Lazio. E di fatto, tenendo in alcun conto, per esempio, della proposta del sindaco di Firenze, Narvella, che invece aggrega le Marche all'Umbria, all'Emilia Romagna e alla Toscana. Chiaramente a noi, dalla provincia di Pesolo, questa seconda proposta è molto più congeniale. Lei, ecco, le volevo chiedere, sindaco, non crede che l'idea di questa macro regione dell'attuale giunta regionale metterebbe i margini nella nostra provincia? Alcuni esempi ci sono, basta pensare all'assidenza preoccupante sul nuovo ospedale, che da sempre la nostra provincia gravita per ragioni storiche e culturali sull'Emilia Romagna e comunque non crede che ogni possibile modifica di quello che è l'attuale assetto regionale debba essere preceduto da un'ampia consultazione popolare. Grazie, sindaco. Grazie a lei. Ma intanto credo che serva una riforma delle regioni, perché questo regionalismo, come l'abbiamo conosciuto, non funziona. L'abbiamo visto anche in questa pandemia, troppo protagonismo da parte dei presidenti di regione e anche un eccessivo ruolo di governo, perché le regioni sono nate nel 70 per fare le leggi e la pianificazione, poi per gestire la sanità. Ecco, io credo che debbano tornare a fare queste tre cose, mentre spesso e volentieri le regioni negli ultimi anni, negli ultimi decenni, hanno accentrato funzioni che invece devono stare sui territori. Hanno molto approfittato della crisi delle province e questo non va bene. Poi c'è un problema di dimensione, non è per me una questione di risparmio, ne faccio una questione di competitività. In Europa le regioni sono più grandi e di conseguenza più competitive. Io credo che la nostra regione di un milione e mezzo di abitanti sia troppo piccola e troppo fragile. Nel 2010, nel lontano 2010, ero da poco presidente della provincia, avevo organizzato a Cagli il patto del centro Italia con tanti amministratori di Toscana, Umbria, Lazio e addirittura c'erano anche alcuni esponenti dell'Emilia Romagna, proprio per lanciare questo tema. Io credo che su questo siamo molto in ritardo, credo che il partner ideale per le marche siano l'Umbria, almeno le marche l'Umbria dobbiamo metterle insieme. Credo anch'io come lei che non c'entri nulla o poco la Bruzzo e il Molise. La Bruzzo e il Molise sono già sud o comunque centro-sud, sud. Quindi sicuramente marche Umbria insieme e avrebbe molto più senso forse allora un ragionamento con Toscana e Lazio, anche se lì già stiamo parlando di dimensioni molto più grandi. Se prendiamo i collegi elettorali delle elezioni regionali, il centro Italia non è marche Umbria-Abruzzo-Molise, il centro Italia è marche Umbria-Lazio-Toscana. Quindi questo è l'ambito nel quale ci dobbiamo muovere. Io spero almeno che con l'Umbria, che fa 900.000 abitanti, si possa fare un ragionamento serio e facendo diventare l'Appennino non un elemento di divisione, ma un elemento di unione, il punto di unione del cuore del paese. Ci credo da tanto tempo e sono d'accordo con lei che altri scenari che invece spingono le marche verso sud spingerebbero automaticamente la nostra provincia verso l'Emilia-Romagna. Quindi se è quello il disegno, è un disegno che avrebbe un effetto buberan, perché è evidente che la nostra provincia a quel punto rischierebbe di essere attratta fortemente dall'Emilia-Romagna. Dobbiamo capire se queste sono per il momento chiacchiere o realtà. Al momento sono ragionamenti che si stanno facendo in linea generale. Non mi pare che il governo Draghi voglia prendere il tema delle riforme, abbia preso il tema delle riforme da portare avanti da qui alla fine della legislatura. Io penso però che servano anche le riforme istituzionali. Abbiamo bisogno di rimettere mano al testo unico degli enti locali, con comuni più forti e province e case dei comuni. Abbiamo bisogno di rimettere mano alle regioni. Vedremo se nelle prossime settimane tra le riforme che anche l'Europa chiede si potrà infilare anche questa riforma che a mio parere è fondamentale, soprattutto per provare a confrontarsi su qualcosa di concreto e non diciamo su teorie che periodicamente riemergono ma che poi altrettanto velocemente cadono nel dimenticatoio. Sindaco, le chiedo un botte risposta. Ci sono già tanti messaggi. Vorrei sapere se anche quest'anno le spiagge libere saranno attrezzate come l'anno scorso. Sì, ci stiamo lavorando. Avremo una discussione questa settimana in maggioranza, però io sono per attrezzare come l'anno scorso. Perché l'anno scorso abbiamo avuto spiagge libere con dei servizi di base, il bagno, la doccia, la possibilità di lasciare l'ombrellone e non portarlo sempre a casa in un piccolo deposito, la possibilità di affittare un lettino e abbiamo avuto spiagge più pulite. Quindi coloro che dovevano andare al bagno non dovevano andare per forza in mare come purtroppo accade spesso o ad elemosinare un bagno dal bagnino più vicino possibile. Abbiamo dato dignità alla spiaggia libera che è rimasta del tutto libera perché le piccole attività, i piccoli servizi che abbiamo messo, bagno e deposito e piccolo bar ambulante sono stati messi nella zona della pista ciclabile, cementata e quindi senza toglierne anche mezzo metro alla spiaggia libera. Quindi la spiaggia libera è rimasta, al tempo stesso è stata di maggiore qualità. In più è fondamentale quest'anno perché abbiamo bisogno di tenere le persone sparse, non aggregate in pochi posti. Ad esempio sto registrando la lamentela di tanti ragazzini adolescenti, 14 anni, 15 anni che non trovano l'ombrellone dei bagnini perché, un po' perché qualcuno non li vuole, ma diciamo che tra difficoltà di mantenere le distanze, spazi che giustamente devono essere lasciati ai turisti, insomma hanno qualche difficoltà, io a tutti quelli che mi chiedono ma perché non provate la spiaggia libera? Provatela, quest'anno dall'anno scorso ci sono anche un minimo di servizi, potete lasciare lì il vostro ombrellone, ve lo mettete ogni volta e potete andare in spiaggia libera magari godendo anche di panorami bellissimi come quello che c'è ad esempio tra Pesaro e Fano. Quando verrà risolta la vergognosa situazione del cimitero di Pesaro che riguarda la parte nuova completamente transennata? Sì è vero, hanno ragione, è un vecchio contenzioso tra la ditta che ha realizzato l'intervento del Comune, però abbiamo deciso intanto di metterci un po' di soldi già da questo bilancio e quindi spero il prima possibile che partiranno i lavori, abbiamo deciso con l'assessore Belloni proprio qualche settimana fa in attesa che si chiarisca il contenzioso di metterci delle risorse del Comune perché effettivamente quella parte di cimitero così come non va e va resa agibile e funzionale e anche visivamente accettabile il prima possibile. Avete idea di che fine faranno i parchi giochi al chiuso? Beh forse per questi bisognerà attendere ancora un po' Sindaco? Penso di sì, penso di sì perché comunque sono tra quelle tipologie diciamo rispetto al Covid più complicate da igienizzare, per mantenere il ricambio dell'area eccetera. Però ecco ripeto, io credo che se saremo bravi e non faremo disastri nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io penso che da giugno avremo un'estate quasi normale e poi se come pare il ritmo a livello nazionale pare essere quello, tra settembre e ottobre raggiungeremo l'immunità di gregge, io penso che per l'autunno prossimo tutto riaprirà, forse anche prima, anzi mi auguro prima anche quelle attività più rischiose. Se riaprono i parchi tematici il primo di luglio, oggi sono previsti il primo di luglio, si sta provando ad anticiparli, penso che prima o poi riapriranno anche gli spazi gioco al chiuso per i bambini. Via Bartoluzzi, oddio, adesso ho un flash. Chiediamo al telespettatore se ci può dare qualche... Vabbè, sì, dopo la guardiamo nella pausa, se andiamo avanti. Sono il presidente della Lega Navale Italiana Fanno, la seguente notizia è stata già segnalata a Fanno TV, sì, ne abbiamo parlato anche noi. Resta il fatto che il suo comune ha applicato in modo corretto l'articolo 39 del codice della navigazione che prevede sull'articolo 100, e quindi andiamo un po' nei tecnicismi, al contrario del comune di Fanno che l'ha recepita in toto. Grazie. Vabbè, ok, le spieghiamo un attimo. Sostanzialmente è stato aumentato il cannone minimo che è passato da 361 euro a 2750, quindi anche queste associazioni che hanno diversi casottini, il cannone De Magnano, insomma, che è aumentato molto, quindi loro si trovano a dover affrontare delle spese veramente ingenti, dicono che il comune di Pesaro... Questo a Fanno o a Pesaro? Il comune di Pesaro ha applicato in modo corretto, le dicono, e quindi al contrario di quello che è avvenuto a Fanno. Lasciamo la domanda a serie. A serie, a serie. Vorrei chiedere al nostro Matteo Ricci, per questi ragazzi che hanno rimandato il matrimonio 2020, hanno posticipato al 2021 e sentire, dire che l'orario è alle 22, come si fa a organizzare? Che cosa dobbiamo pensare? Si può spostare, visto che è un evento unico oppure no? È un tormento, non è più neanche un piacere sposarsi. Il messaggio è lunghissimo, ma cerchiamo, insomma, di... Questo è il frutto della confusione comunicativa che è stata fatta quando è stato fatto il decreto. Dipende quando si sposa. Se vi sposate entro il 15 di maggio, sono le 10. Io penso che già dopo il 15 di maggio ci sarà un allentamento, sicuramente dal primo giugno. Quindi l'estate non ci può essere un coprifuoco durante l'estate. È praticamente impossibile e sarebbe anche ingiustificabile. A meno che, ripeto, dovesse esserci una quarta ondata. Ma a tutti quelli che si lamentano, giustamente, perché non ne possiamo più tutti, è una situazione che va avanti da più di un anno. C'è una sofferenza e una stanchezza da parte di tutti incredibile. Però, ripeto, magari ce lo siamo sentiti dire più volte, ma le altre volte il vaccino non c'era. Stavolta il vaccino c'è. Davvero siamo nella parte terminale dei sacrifici della resistenza. Non sbagliamo adesso. Non sbagliamo in queste settimane che abbiamo di fronte, perché rischiamo davvero di comprometterci l'estate. Se invece saremo bravi, io credo che già a giugno cominceremo, se i tempi sono questi, a giugno cominceremo a avere i cinquantenni che si cominceranno a vaccinare. Forse anche qualcosa in più. L'estate forse mi vaccinerò anch'io, che ancora sono nel decennio dei quarantenni. Se è verso più i cinquanta che i quaranta, però ancora nel decennio dei quarantenni. Quindi un po' alla volta saremo tutti più difesi. Poi sicuramente dovremo fare un nuovo richiamo in autunno, il prossimo inverno, dopo sei mesi. Però è chiaro che quando saremo in gran parte vaccinati sarà tutta un'altra storia. Ma non solo. Io credo che già tra un mese noi vedremo la mortalità andare in picchiata. Basta guardare cosa è successo in Inghilterra, che è una delle nazioni che è più avanti di noi di circa un mese e mezzo sulla campagna di vaccinazione, forse due. In Inghilterra la mortalità si è azzerata, perché la gran parte delle persone che muoiono di Covid sono persone anziane, persone con patologie. Poi può colpire tutti e ci sono anche casi in cui sono morti giovani purtroppo. Però è evidente che statisticamente una volta che hai vaccinato gli ottantenni, i settantenni, i sessantenni, la mortalità crolla e questo già vuol dire che siamo a metà dell'opera. Si stanno facendo i sessantenni, da noi ancora dai 65 ai 70, quindi davvero è presumibile che tra un mese tutti i sessantenni saranno vaccinati e vedremo anche in Italia crollare immediatamente la mortalità. E questo ci darà sicuramente molto più tranquillità e spingerà il governo ad ulteriori riaperture, ad ulteriori alleggerimenti, compreso la possibilità di fare i matrimoni senza coprifuoco. In questo caso ci precisano che sarà il 17 di luglio. Via Bartolucci invece è a Borgo Santa Maria, zona industriale, sede Tecnoplasti infissi. Dunque, a proposito di vaccini, dicono noi che ci siamo prenotati proprio per quei giorni in cui l'ex ristori marra chiuso. Come dobbiamo comportarci? In questo caso si spera che l'Azur a meno vi dia una comunicazione. Io spero che da domani ci diano delle notizie nuove. Le risposte che ci hanno dato oggi sono del tutto insufficienti, perché alla domanda perché tenete chiuso tre giorni, la risposta è stata prima non ci sono i vaccini, poi non è proprio così, non ci sono i prenotati. Che cosa vuol dire non ci sono i prenotati? Allargate la fascia di persone che possono essere vaccinate. Io credo che abbiano avuto alcuni problemi organizzativi legati al personale. Ogni volta che noi abbiamo avuto dei ritardi o delle file sono state legate al poco personale piuttosto che altro. A volte anche i vaccini, ma spesso e volentieri al poco personale. Probabilmente c'è stato qualche problema di questo tipo, spero che nel giro di un giorno o due riescano a risolverlo, perché ripeto, dobbiamo vaccinare 24 ore su 24, non c'è ne sabato, non c'è domenica, non c'è primo maggio, non c'è 25 aprile. In questo caso bisogna vaccinare, vaccinare, vaccinare il primo possibile. Vorrei proporre al Sindaco di prolungare il progetto di sottovia della Statale all'incrocio con Viale della Repubblica, sino a quello di Viale Marconi. Avremo la Ramblas pesarese. Quello è complicato, perché il progetto che stiamo valutando, abbiamo dato l'incarico per la progettazione preliminare, è un progetto molto importante, stiamo parlando di circa 4 milioni di investimento. Quindi già di per sé è un intervento molto importante, che però libererebbe il Viale della Repubblica. Ci stiamo puntando molto, perché sembrava un sogno, fino a qualche mese fa, ma noi potremo davvero avere un unico viale dal Teatro Rossini fino alla Pala di Pomodoro. E quella sarebbe la nostra Ramblas. A quel punto, Piazzale Aldomoro, che oggi è un piazzale ibrido, con macchine, parcheggi, un po' di locali, diventerebbe davvero una bellissima piazza. E tutto il Viale della Repubblica, tra ciclabili, marciapiedi e strada, diventerebbe davvero la nostra Ramblas. Quindi ci puntiamo moltissimo. Speriamo davvero nei prossimi giorni di dare informazioni ufficiali, perché stiamo, prima di fare una conferenza stampa ufficiale, vogliamo analizzare tutte le questioni, tutti i problemi. Quindi stiamo facendo fare dei sondaggi, anche sul terreno, anche se è un terreno che conosciamo abbastanza bene, perché già ci sono dei sottopassi pedonali. Abbiamo fatto la verifica di tutte le infrastrutture che passano. Quindi fino ad oggi i problemi più grossi li abbiamo risolti tutti. Incrociamo le dita, perché se riuscissimo davvero a far partire un progetto del genere, in un paio d'anni cambia una parte fondamentale della città. Sindaco, ci dobbiamo fermare per pochissimi secondi di pubblicità e poi torniamo. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ci spostiamo sul lungomare. Intanto, come ha sentito durante la pubblicità, segnalano dei rifiuti gettati tra i due porti, ma rimanendo in spiaggia, le dicono il suo impegno di due anni fa per un divieto totale del fumo su tutto l'Arenile. Troverà attuazione anche quest'anno? Ancora non ci abbiamo pensato. L'anno scorso l'abbiamo stoppata un po' la cosa, perché con il Covid era un casino. Ad esempio abbiamo fatto una grande battaglia contro la plastica e poi l'anno scorso erano tutte posate monouso, quasi sempre di plastica. Quindi, insomma, è stato un anno complicato. Però sicuramente riprenderemo la battaglia, riprenderemo la battaglia contro la plastica, come abbiamo fatto in passato, e la riprenderemo anche sul tema del fumo. Del resto, così come l'abbiamo fatta in passato sulle cicche di sigarette gettate a terra, è chiaro che servono controlli su tutto, ma serve anche grande responsabilità dei cittadini. Quindi dobbiamo fare soprattutto una campagna educativa e far vergognare coloro che sporcono ancora e pensano di essere furbi. Quindi cerchiamo di sollecitare il più possibile in questo senso. L'emergenza Covid ha fatto passare questi temi un po' in sordina, perché ovviamente le emergenze sono state altre, però sono battaglie che riprenderemo con grande forza il primo possibile. Chi sta facendo gli scavi per la banda ultralarga, poi ci sono anche dei ripristini che non sono fatti come si deve. E richiedono anche a che punto è il circuito per i ciclisti. Domani, tra i motivi per cui sono a Roma, è perché spero di avere la firma finalmente del ministro del sottosegretario Vestali sull'impianto di Pesaro, perché abbiamo fatto una proposta ormai da mesi al ministro Spadafora prima, poi al sottosegretario Vestali, alla firma del sottosegretario. È un impianto da un milione e mezzo, il Comune ci mette 500 mila euro e un milione dovrebbe darlo lo Stato. Appena ci sarà la firma del sottosegretario Vestali e faremo una conferenza stampa, lo presenteremo, è un impianto che si svilupperà dietro il palasport, molto importante per allenare i ragazzini che vanno in bicicletta e anche per andare coi pattini. Quindi sarà un impianto importantissimo che manca in città. Del resto stiamo intervenendo su tutti gli impianti sportivi della città. Non ultimo abbiamo avviato il project financing per la cittadella del calcio a Villa Fastigi insieme alla Vispesaro e quindi ci sarà un bando vero e proprio. Ovviamente potranno partecipare anche altre società ma il project è stato presentato dalla Vispesaro che ovviamente parteciperà come proponente e speriamo il prima possibile che si possa chiudere questo bando e sarà un grande investimento in questo caso per il calcio. Stiamo intervenendo sul vecchio palazzetto dello sport quindi incrociando le dita per la fine dell'estate dovrebbe essere finito e insomma stiamo continuamente investendo su tante impianti sportivi. È chiaro che il tema del ciclismo è quello mancante tant'è che in tanti vengono ad allenarsi a Fano alla pista di Fano perché non ci sono altre piste più vicino e soprattutto è fondamentale non tanto per i grandi ma per i bambini perché far avviare il ciclismo dei bambini o dei ragazzini sulla strada è molto pericoloso e quindi ci tengo davvero tanto a realizzare questo impianto lo prima possibile spero già domani di poter dare qualche notizia di ufficialità. Tra l'altro le chiedono quando finirà questa pandemia e speriamo anche più presto possibile perché non organizzare dei concerti a livello internazionale come accadeva tanti anni fa al Palace tipo Elton John insomma poi ne incitano tanti Noi vogliamo ritornare ad essere una città di grandi eventi abbiamo il Palace Sport 11.000 posti avremo il vecchio palazzetto dello sport che chiameremo Auditorium Scavolini che avrà 2.000 posti che andrà bene per la musica per i congressi per i concerti per lo sport stesso e abbiamo il sistema dei teatri e quest'anno allestiremo ulteriormente il teatro all'aperto al Parco Mio Ralfiore che dimostra come il parco può essere anche quello uno spazio per eventi magari più piccoli ma significativi e quindi abbiamo sistemato lo stadio quindi comunque abbiamo uno stadio da 3.000 posti più il parterre abbiamo tante attrezzature tanti impianti sportivi e tanti impianti generali per ospitare grandi eventi l'ultimo che abbiamo avuto è stato purtroppo poco prima del Covid che sono state le finali di basket qualcuno lega anche io sinceramente altri mi hanno smontato questa teoria però lega anche a quella grande manifestazione il picco di contagi che abbiamo avuto all'inizio della pandemia non lo sapremo mai ufficialmente però io penso di sì perché penso che abbia avuto un effetto tipo Atalanta-Valencia diciamo no? perché le finali sono state dal 13 al 16 febbraio il primo caso a Codogno è stato il 21 febbraio quindi presumibilmente un effetto lo ha avuto speriamo di ritornare ad avere ad esempio la final aid di basket quest'anno siamo arrivati i secondi e sono andato a vedere la finale a Milano sicuramente avremo il campionato nazionale di duathlon corse bicicletta che avevamo fissato a marzo poi abbiamo chiesto alla federazione di rinviarlo e sarà mi pare il 20 e il 21 di maggio quindi la stagione riparterà con questa grande manifestazione sportiva 20 e 21 maggio se non sbaglio e verranno almeno mille atleti da tutta Italia un campionato di livello e quindi sarà un modo per ripartire con lo sport io sogno di rivedere la città piena di gente piena di gente piena di feste di musica di attività culturali sportive di gente che si aggrega che si diverte quella è la città che mi piace c'eravamo quasi riusciti nel senso che anno dopo anno la città era migliorata molto da questo punto di vista poi il covid ci ha bloccato e adesso dovremo ripartire da capo però lo faremo e lo faremo a iniziare da quest'estate che nonostante che sarà un'estate esclusivamente con eventi con posto prenotato con posto seduto sarà un'estate piena di iniziative soprattutto culturali e quindi anche quest'estate sicuramente sarà tanto da fare a Pesaro anche se non ancora come vorremmo tutti noi quindi un po' alla volta ritorneremo a fare festa il sindaco sarà il primo ad organizzare appena possibile una grande festa cittadina con tutti coloro che vorranno lasciarsi alle spalle questo periodo drammatico che ancora stiamo vivendo c'è qualcuno sindaco che vuole parlare con lei sentiamo chi è in linea buonasera buonasera ciao Matteo ciao sì ciao il sindaco è qua che l'ascolta sì volevo farti la proposta di progettare un parcheggio sotterraneo in piazzale Fimo Maggio per i residenti allora lì come sai c'è il curvone un piazzale sotterraneo lì non ci abbiamo pensato sinceramente anche perché ci dovrebbe essere il mercato per se per i residenti bisogna fare dei box per i residenti un parcheggio per i residenti e quindi il costo è abbastanza elevato ci dovrebbe essere la volontà di tanti residenzi di comprare il box o di comprare lo spazio abbiamo dal punto di vista dei parcheggi invece comprato l'area di Villa Marina per fare un parcheggio gratuito quest'estate quest'estate ci sarà un'altra novità di queste ultime settimane ci sarà un parcheggio gratuito nella parte più grande diciamo del vecchio spazio di Villa Marina e in più daremo invece in gestione la parte sportiva per poter farla rinascere già da quest'estate nel caso del parcheggio lì parliamo di più di 200 posti di auto e l'obiettivo è invece e poi abbiamo il curvone sempre in quella zona che invece ha pagamento un parcheggio sotterraneo su Piazzale Meottotti mi sembra molto complicato stiamo trovando invece su Piazzale Primo Maggio scusate stiamo invece trovando cercando spazi per i parcheggi nella zona via Passeri via Massa sempre per i residenti per quella è una zona molto complicata abbiamo tolto le macchine in via Passeri e al tempo stesso parlavo prima di Piazzale Primo Maggio l'idea del sottopasso della Nazionale nasce anche perché un fondo privato trasformerà l'ex Bramante e in quel caso sotto l'ex Bramante ci saranno due piani di parcheggi quindi come dire in quella zona si interverrà sui parcheggi diversamente non è proprio Piazzale Primo Maggio però anche quella realtà è molto vicina Qualcun altro che vuole parlare con lei sindaco buonasera 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 al sindaco di Pesaro e niente volevo sapere visto che prima il sindaco di Pesaro parlava anche della ristrutturazione del vecchio palazzo dello sport via Partigiani volevo sapere a che invece a che punto è la situazione dell'eventuale ristrutturazione dell'ex carcere minorile di via Bertozzini proprio in prossimità del palazzo sport anche perché è una zona molto bella del centro mare quindi quel muro così tenuto male con quella situazione di un rudere che è lì non è sicuramente una bella cosa grazie buonasera grazie a lei grazie a lei perché mi permette di dare una notizia che ancora non l'ho dato pubblicamente quindi la diamo in anteprima a Fano TV ma il carcere minorile è un mio crucio da tanti anni perché da quando sono diventato sindaco ho cercato di metterci le mani intanto l'edificio è metà del comune e metà della provincia così anche classifichiamo la proprietà per tre anni abbiamo atteso la regione perché sembrava che servisse alla regione quello spazio per ampliare il centro per l'impiego che come sapete è dietro l'ex carcere minorile su via Luca della Robbia poi invece la regione ha deciso che non era più un bene di suo interesse per un allargamento a quel punto ho detto ai miei se non abbiamo cose da farci pubbliche vendiamolo e io ero tutti noi eravamo convinti che quel bene fosse libero quindi libero da vincoli invece quando è stato ora di metterlo in vendita è venuto fuori che la sovrintendenza ci ha messo a due vincoli molto importanti uno sulla facciata e uno addirittura sul muro questa cosa ovviamente mi ha fatto abbastanza arrabbiare perché io rispetto il lavoro delle sovrintendenze che è preziosissimo per mantenere il patrimonio storico culturale però in quel caso quello è un palazzo degradato quindi insomma lo capiscono tutti che non è un bene di valore però insomma tralasciamo le polemiche è pieno di vincoli a quel punto abbiamo dovuto trovare altre soluzioni qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro con la provincia che è coporportaria con noi abbiamo fatto con la provincia un piano delle scuole superiori che serviranno a Pesaro nei prossimi anni e alla fine visto la insomma viste un po' di richieste delle scuole l'aumento ad esempio del coreutico del liceo coreutico legato allo scientifico e l'esigenza di rafforzare un polo della creatività che già esiste con il Mengaroni abbiamo deciso di realizzarci una scuola proprio oggi mi è arrivato un piano di fattibilità e quindi l'idea è di trasformare un luogo che era dedicato alla reclusione dei ragazzi a farlo diventare un luogo di creatività dei ragazzi un luogo di scuola superiore ma molto legato alle arti e alla creatività quindi il coreutico piuttosto che la musica piuttosto che altre cose domani stasera vi faccio l'elenco della mia agenda romana di domani anche per capire i vari step domani vorrei proporre questo progetto al ministro della pubblica istruzione come progetto speciale sicuramente ci saranno parecchie risorse sull'edilizia scolastica in questi anni sia per le scuole medie elementari asili sia per le scuole superiori per le province però sto provando a vedere se abbiamo lo spazio anche per presentare un progetto speciale perché questo sarebbe davvero un progetto anche dal punto di vista urbanistico speciale quindi vi terrò aggiornati nelle prossime settimane però la scelta strategica che abbiamo fatto su questa non torniamo indietro è quella di farci una scuola quindi rimarrà un bene pubblico di comuni e province ci faremo una scuola dedicata alla creatività se saremo bravi prima troveremo le risorse prima partiremo e vi aggiornerò su questo però sono convinto che se saremo determinati avendo le idee chiare con i progetti chiari con le varie possibilità che ci saranno da qui ai prossimi mesi sono convinto che ci toglieremo molte soddisfazioni anche il carcere minorile lo porteremo a casa mi scuso con i cittadini perché era un bene al quale volevo mettere le mani molto prima ma ci sono state molte complicazioni quest'ultima dei vincoli mi aveva davvero spiazzato però nel giro di poche settimane abbiamo trovato una strada alternativa e penso che possa essere bello per tutti lì portarci una scuola che di per sé porta vita porta gente può in qualche modo adimare quella parte può consentire a noi a quel punto di dedicarci alla trasformazione al miglioramento di Piazzale del primo maggio che è un pezzo del centro storico che vogliamo sistemare però prima di sistemarlo aspettavamo di capire qual era la destinazione del bene principale che lì oggi è in fase di degrado Sindaco abbiamo pochi minuti più o meno dieci minuti quindi le chiedo davvero un botte risposta intanto le fanno i complimenti per la rotatora di case bruciate poi le chiedono quando verrà sistemato l'altro ponte è in via Colbe dopo quello di via Lamarca ah uno dietro l'altro anche su questo abbiamo fatto abbiamo partecipato siamo in graduatoria in un bando del ministero degli interni per la messa in sicurezza dei ponti alcune risorse sono già arrivate altre scaleranno da giugno in poi quindi mano a mano che ci arrivano le risorse interveniamo ma il lavoro sui ponti è un lavoro costante uno dietro l'altro perché ovviamente sulla sicurezza cerchiamo di dare di fare interventi prioritarie quindi prima riusciamo ad intervenire meglio è le chiedono a che punto è il progetto della ciclabile via Fratti Giolitti finanziata la ciclabile via Fratti è già finanziata quindi il primo tratto di via Fratti fino al Genica e quindi partiremo entro la fine dell'anno credo che partiranno i lavori questi sono i tempi che mi hanno dato di certo è già finanziata bilancio abbiamo il progetto abbiamo tutto invece il resto speriamo di finanziare anzi sono sicuro di finanziarlo il prossimo anno che è invece il tratto che va da via Giolitti fino a via Punchiel quest'anno abbiamo finanziato anche la ciclabile che arriva fino a Vismara è importantissima dal fiume Foglia con sottopasso sotto la ferrovia arriverà fino a Vismara abbiamo finanziato insieme alla regione tutta la ciclovia del Foglia quindi per quello che riguarda il nostro tratto arriverà fino a Borgo Santa Maria e Osteria Nuova e poi abbiamo finanziato la ciclabile che dall'Iper Rossini con ponte sull'Iper Conadora col ponte sul Foglia arriverà sull'altro lato del fiume fino al Lago Pensierini e Villa Fastigi quindi queste sono le ciclabili più grandi finanziate quest'anno tra l'altro avete anche approvato il bilancio costitutivo del 2020 e lì c'è un avanzo di 4 milioni pensate anche di portare ben 100 km la bicipolitana quindi con questi interventi arriviamo a 100 km poi saliremo secondo me alla fine arriveremo a 120-130 km e abbiamo fatto un calcolo che tolte le ciclabili che abbiamo finanziato ci servono per completare tutta la rete di bicipolitana che abbiamo in mente altri 7-8 milioni io sono fiducioso di trovarli tra risorse nostre e risorse che troveremo sono convinto che nel giro di un paio d'anni la finanzieremo tutta sono fiducioso del resto siamo la città della bicicletta e ieri hanno fatto girare sui social l'esempio di Bologna la bicipolitana l'inizio della bicipolitana di Bologna di Padova di Treviso c'era un'altra città che è Udine tutte città che hanno voluto il brand bicipolitana che stanno costruendo come noi quindi vi prendono da esempio anche in questo caso devo dire che Lega Ambiente e la FIAB sono due associazioni che hanno fatto una promozione enorme della bicipolitana e la bicipolitana è diventata un esempio nazionale che tanti altri comuni seguono e noi volentieri cediamo il nome perché penso che tra buone amministrazioni bisogna copiare le buone prassi e scambiarsi le buone pratiche intanto ricordo ai cittadini che se volete parlare con il sindaco dovete telefonare al fisso non si potrebbe pensare di fare un ponte pedonale sul fiume Foglia sui piloni già esistenti? Lo faremo un po' più in su perché nel bando delle periferie risorse che abbiamo ottenuto un paio di anni fa noi avremo un ponte che attraverserà il Foglia di fianco al ponte della ferrovia cioè oggi abbiamo l'acciclabile di Tombaccia che va a finire sul fiume e lì ci sarà un ponte che arriverà al Parco Miralfiore a Via dell'Acquedotto e alla stazione e quindi rispetto ai piloni è un ponte diciamo un po' più a monte ma è bellissimo sarà un ponte ciclopedonale ed è già finanziato un investimento molto importante perché degli 11 milioni e 3 che abbiamo ottenuto dal bando periferie credo che solo il ponte quoti circa 4 milioni e quindi l'abbiamo fatto un po' più in su perché lì abbiamo ottenuto un finanziamento rimane per me ancora un sogno su questo ancora non ho trovato una soluzione spero nei prossimi mesi di provare a individuarla rimane invece per me ancora un sogno quello del ponte tra i due porti e Baia Flaminia quello sarebbe davvero un'opera che avrebbe quasi diciamo la valenza di un monumento perché immagino le persone che verrebbero lì a vedere il tramonto insomma avrebbe davvero un'attrattività fortissima oltre che a collegare il parcheggio tra i due porti con Baia Flaminia questo però ancora è nella mia testa diciamo abbiamo qualche progetto preliminare però ancora è nella mia testa mentre invece l'altro è già finanziato progettato quindi verrà realizzato mi auguro insomma nei prossimi mesi insomma massimo il prossimo anno la zona della Torraccio le chiedo non è stata dimenticata? no la zona della Torraccio è bellissima fra l'altro una delle zone residenziali più belle dove ci sono tante tante coppie che ci vivono la zona della Torraccio ha bisogno di qualche servizio di qualche servizio soprattutto per gli adolescenti perché lì quella è la parte più giovane della nostra città e mancano alcuni servizi soprattutto per gli adolescenti è chiaro che con il covid è stato tutto più complicato però vorremmo concentrarci su questo per dare un sostegno alla famiglia un luogo di aggregazione per i ragazzi perché le mamme i genitori si lamentano che lì hanno degli spazi verdi intorno alle case bellissimi ci arriva adesso anche la bicipolitana quindi sicuramente è uno spazio è un quartiere più servito è molto periferico è vicino all'autostrada però molto riparato rispetto all'autostrada quindi è un quartiere di grande qualità il problema è che è un po' lontano dai servizi gli mancano i servizi e l'area più vicina è un'area commerciale quindi il rischio è che tutti i ragazzini vadano al supermercato alla sala giochi alla gelateria e non abbiano luoghi di aggregazione quindi se devo pensare a una priorità al di là di piccole sistemazioni che si possono fare e che sicuramente faremo però manca un luogo di aggregazione non faremo in quella zona una scuola nuova perché abbiamo deciso anche qui nel bilancio che abbiamo provato oggi di sistemare invece il parcheggio della scuola di Santa Maria delle Fabrecce perché la scuola di Santa Maria delle Fabrecce è una scuola importante sia le elementari che le medie oddio sì anche le medie ci sono ed ha una viabilità bruttissima perché è una strada molto stretta in salita e nell'orario di arrivo nell'orario di ripresa dei bambini ci sono un sacco di problemi quindi abbiamo deciso lì di realizzare di espropriare un pezzo di terreno realizzare un parcheggio e realizzare un contorno indietro che possa favorire l'arrivo in quella scuola perché quella scuola rimarrà mentre invece in passato si era pensato di fare una nuova scuola nel nord della città la nuova scuola invece la faremo a Soria perché dopo aver fatto la nuova scuola a Pantano in Viala Marmora al top dell'efficientamento energetico una scuola che ha vinto anche tanti premi europei su questo faremo una scuola molto simile alla Dante Alighieri nell'attuale sede di Soria e quindi come dire questa è un'altra scuola già finanziata che partirà a settembre tant'è che stiamo trovando stiamo cercando lo spazio per spostare i ragazzini della Dante Alighieri che probabilmente andranno per un anno o due a scuola nell'ex palazzina di Pesoro Studi in Viale Trieste Mi dicono dalla regia che c'è un'altra telefonata per lei Buonasera Buonasera Prego Allora io volevo fare una domanda al sindaco se è possibile Come no? Allora volevo chiedere io sono chiamo da Pesaro e allora voglio sapere in via Ponte Vecchio a Pesaro la via che costeggia il ponte sul Foglia che va sul Ponte Sul Foglia al Ponte Vecchio per dove passa il ponte quello vecchio io abito faccio notare al sindaco che lì toccherebbe mettere un limite di velocità perché le macchine sfrecciano hanno una velocità molto elevata sia i motori che altri io ho avuto un incidente proprio lì uscendo da casa con la bicicletta e sono tamponato da un motorino non è che per me che lo faccio faccio in generale per la popolazione che passa lì e poi c'è anche il ciclabile figuriamoci il ciclabile c'è tutto di conseguenza è possibile mettere magari un limitatore di velocità allora intanto il ponte che dicevo prima ciclopedonale alleggerirà molto il Ponte Vecchio dal punto di vista ciclopedonale perché oggi tutti coloro che vengono dai quartieri nord di Pesaro vogliono entrare in bicicletta in centro passano al Ponte Vecchio il Ponte Vecchio è un ponte bellissimo ma molto stretto con marciapiedi molto piccoli e quindi spesso e volentieri le biciclette sono costrette a passare sulla strada questo abbinato alla velocità che dice il telespettatore la rende abbastanza pericolosa anche perché con la velocità saltano le macchine quindi fa quasi un trampolino quindi l'intervento che facciamo sicuramente metterà in maggiore sicurezza le biciclette e poi sicuramente se dobbiamo intervenire sulla velocità vedremo di capire che cosa si può fare quella lì dovrebbe essere una zona 30 le zone 30 e sono zone dove appunto non si può andare più dei 30 oggi non è segnalata così a mio parere dobbiamo farla diventare zona 30 l'altra novità in quella zona invece è la rotatoria di largo tre martiri che diventerà definitiva una delle rotatorie sperimentali che come dire abbiamo voluto studiare di più perché all'inizio aveva creato diversi problemi però alla fine funziona abbiamo deciso di renderla definitiva e mi piacerebbe così come nella rotatoria davanti al troni abbiamo dato un segnale a L'Avis L'Avis ha fatto una statua molto bella proprio per invitare i cittadini a donazione mi piacerebbe in quella rotatoria di largo tre martiri invece dedicarla alla storia della Benelli perché da lì in poi diciamo dopo il punto in poi nasceva la fabbrica della Benelli tant'è che in fondo è rimasto il museo Benelli è un nome al quale Pesaro è legatissima è un pezzo di storia della nostra città ed è un pezzo anche di grande attualità grazie all'attività del museo Benelli di tanti appassionati è diventato un luogo molto importante per la città quindi quella rotatoria all'ingresso di Pesaro ci piacerebbe dedicarla alla storia della Benelli fra l'altro nel museo Benelli spero anche qui adesso i musei si possono finalmente aprire tante persone potranno vedere non solo la collezione Benelli che già di per sé è stupenda ma anche un pezzo della collezione Morbidelli perché grazie all'Asia abbiamo fatto un'operazione importantissima l'Asia ha comprato alcune delle moto più belle della collezione Morbidelli e sono state temporaneamente posizionate all'interno del museo Benelli quindi come dire vivremo già in parte il museo Morbidelli che invece vivrà con gli spazi necessari in maniera definitiva all'ex tribunale in via San Francesco quando avremo finito i lavori ultime domande sindaco le chiedono se verrà sistemata la strada di fronte all'ospedale di Muraglia ma anche a che punto è l'interquartieri di Muraglia interquartieri finalmente sono partiti i lavori abbiamo temuto davvero il peggio in questi due anni da quando c'è stata la caduta del ponte di Genova perché si è aperto un conflitto tra governo e società autostrade che ci ha fatto davvero temere il peggio per fortuna è stato trovato un accordo i lavori sono ripartiti la procedura è ripartita è stata assegnata alla gara una ditta ci dicono seria così ci hanno detto società autostrade che già lavora per società autostrade in altre parti d'Italia non ci sono stati ricorsi in questo momento ci sono all'opera i lavori di marche multiservizi perché stanno facendo dei lavori sull'acquedotto e subito dopo partirà la strada quindi il cantiere è iniziato basta passare sono viste le prime ruspe per i primi lavori quindi speriamo che vadano avanti spediti che non ci siano sorprese e che si possa finalmente realizzare questa arteria che è fondamentale per completare l'interquartiere nel lato sud è fondamentale per Muraglia perché significa assaltare i centri abitati che come dire hanno un traffico molto intenso ed è fondamentale anche per l'ospedale di Muraglia che speriamo possa vedere il prima possibile la realizzazione anche dell'ospedale nuovo dove si sa si è parlato di case bruciate però ancora non ci sono insomma a me non risulta nulla l'ospedale in tutte le scelte urbanistiche che abbiamo fatto Muraglia basta mettere i soldi e si parte quindi se la regione vuol davvero fare l'ospedale sa come deve fare benissimo penso che lei sia stato chiaro via Cinarosa penso Cimarosa non lo so se può mettere un tutor e poi piazza Leredi per andare in piazza del popolo se avete intenzione di fare qualcosa perché non c'è una pista ciclabile allora via Cinarosa intanto abbiamo fatto i marciapiedi che erano richiesti dalla popolazione effettivamente quella è un'altra strada dovevano molto forte bisogna provare a fare delle aree 30 il problema è che le aree 30 poi significa non solo scrivere 30 per terra significa fare delle strettoie come abbiamo fatto in via Madonna di Lore via Campo Sportivo come abbiamo stiamo sperimentando a Santa Veneranda e poi spesso e volentieri quando facciamo cose di questo genere c'è chi protesta però effettivamente quella è un'altra via è un rettilineo dove è facile prendere la velocità e quindi vediamo che cosa possiamo fare però io credo che la risposta sia area 30 anche per quello che diceva prima la domanda su piazza Leredi allora intanto abbiamo deciso di collegare altra cosa che dobbiamo finanziare nei prossimi anni ma abbiamo deciso l'itinerario abbiamo deciso di collegare la ciclabile che arriverà in via Fratti lungo il Genica fino all'Oreto e questo diventa importante come linea della bicipolitana a fianco del Genica per i quartieri dove si dove diciamo penso al quartiere di Muraglia al quartiere di Monte Grenaro Basso eccetera lì è difficile fare una linea di bicipolitana lì è molto più semplice fare delle aree 30 vere dove c'è ancora diciamo una coincidenza nella strada tra veicoli biciclette e pedoni ma la velocità deve essere talmente bassa che tutto diventa in sicurezza però anche lì fare delle aree 30 significa ad esempio mettere gli alberi dove non ci sono perché gli alberi riducono fortemente la velocità mettere altre cose quindi come dire non basta segnare il 30 per terra bisogna fare delle scelte di arredo urbano molto più molto più forti quindi nei due quartieri aree 30 questa è la mia idea mentre invece la ciclabile lungo il genica può collegare via fratti verso l'oreto e anche via fratti verso il parco scarpellini e gli interquartieri quindi questo è il tragitto che abbiamo deciso così come stiamo studiando e spero che si riesca il primo possibile il tratto che oggi non ci permette ci costringe ad andare davanti al cimitero un altro tratto molto pericoloso per chi viene da via Belgioioso a questo punto l'idea più semplice è quella di in qualche modo scendere facendo il perimetro del cimitero e arrivando all'oreto per evitare che le biciclette vadano dritto e vadano in qualche modo in carreggiata stradale davanti al cimitero dove è abbastanza pericoloso soprattutto d'estate speriamo di trovare la soluzione tecnica il primo possibile però questi sono i tratti che abbiamo definito con i nostri tecnici negli ultimi giorni Sindaco avrei dovuto leggere tanti altri messaggi dei telespettatori ma mi dicono che siamo arrivati proprio al termine di questo appuntamento speriamo come diceva lei prima di poter trascorrere un'estate un po' più in tranquillità e perché no anche in zona bianca ma sarà sicuramente così maggio aprile e maggio saremo gialli e se tutto andrà bene dal primo giugno saremo bianchi forse anche una settimana prima se saremo bravi quindi adesso sta noi sta noi comprendendo la stanchezza comprendendo l'esasperazione io sono il primo che vorrei ritornare a vivere come vivevamo prima immediatamente però adesso è il momento della prudenza della cautela e della gradualità non possiamo tornare indietro dobbiamo ogni giorno migliorare un po' migliorare un po' migliorare un po' fino a riaprire e ad avere un'estate quasi normale guai ad avere ricadute perché proviamo ad immaginarci che cosa vorrebbe dire una quarta ondata nel mese di maggio significherebbe compromettere l'estate non possiamo permettercelo assolutamente abbiamo bisogno di rivedere i turisti abbiamo bisogno di ognuno di noi chi può alla fortuna di riandare in vacanza abbiamo bisogno di rimettere in moto l'economia e quindi guai a esagerare in questi giorni lo dico ai ragazzi soprattutto ma non solo ai ragazzi grande attenzione stiamo sparsi stiamo all'aperto speriamo che il tempo ce lo conceda evitiamo eccessi vedrete che quest'estate torneremo a vivere in maniera quasi normale già l'estate scorsa ci pensiamo l'estate scorsa è stata un'estate quasi normale non normale ma quasi normale anzi forse abbiamo avuto anche degli eccessi e li abbiamo pagati però rispetto all'anno scorso quest'anno c'è il vaccino e quindi se saremo responsabili un'estate quasi normale significherà avere anche tanta serenità in più io ringrazio anche tutti i nostri telespettatori che ci hanno scritto siete stati veramente in tanti e mi scuso con quelli insomma che ancora non posso leggere insomma non facciamo in tempo sindaco grazie per essere stato con noi vorrei ringraziare anche il regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7 in diretta con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri grazie di nuovo al sindaco di Pesaro Matteo Ricci grazie a voi grazie e buona serata arrivederci a domani grazie a voi grazie a voi